Mi fa, così, così, Sandra, siamo in, guardando la sala, siamo in, siamo, ma perché mangi con noi te? Mi ha detto a mio fratello, questo mi ha detto siamo, mio fratello mi ha detto, vabbè se sta da solo fallo stare con noi, no? Ha capito la generosità? Quello che dice Capri, che è sacrosanto, io lo passavo sulla pelle, perché? Allora, i piatti, in questo ristorante qui ci sono tre tipi di piatti, piatto di frutta, piatto pieno e piatto fondo, 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 arriva, vai lì, 220, 240 peiotti, così, bravo, piatto così, ma il buco reale è questo, questo intorno serve per fare quelle cazzate che gli schizzetti, quella roba di chef, 5 stelle, 4 stelle, mettici la roba! Lì, ma, due atti di fruttuccine, lì ti metti due cosi, così, due episodi, racconto perché ho raccontato sempre perché è verità, allora, non mi non posso, Monte Carlo, Monte Carlo, Garage dei Principi, c'era una convention, ti giuro, oh, lo dico in amicizia, non ti voglio bene, siete fratelli, coltello, 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 forchetta, 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 bicchiere, 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 piatto piatto, ti dico un servizio, arriva questo, mi fa, prego, si accomodi, mi sposta la sedia, dico, vabbè, magno per primo, pensavo che ci mangiavamo un 7-8 a quel posto, magnavo io, poi marzavo e ne vado, no, ma io manco a casa, ce l'ho dentro le posate tutte, io ho sei bicchieri di sei marche diverse a Nutella, perché non è che si rompono tutte le Nutella, si rompe uno verde né giallo, alla Caritas, sono più organizzati, io lo ripeto perché qualcuno l'ha sentito, io faccio che ci prendo, vado a Bologna, prima di un firme con dei Siga, cosa prende il signore sempre, hai sti cammerieri che pare che te che stanno a casca addosso, signore, fai mangiare la muttana, cosa prende, dico, che c'ha di buono, che ne so, io, che menù, non me ne intendo, io mangio quei quattro cose, mi fa abbiamo tortellini, ignolotti, il bollito, io ho detto guardi già sta sbagliando, perché non si chiama bollito ma si chiama l'allesso, se vuoi parlare italiano, mi nonna lo chiamava l'allesso e il bollito, io lo ripeto perché mi ci sfrugo a queste cose, mi fa, povera cosa fa, mi dico che prende, mi porti, il gesto, come ti chiami, il gesto, come fai tu, mi porti di tortellini, eh, porti di tortellini, ma non sapevo che gesto, decide per numero di tortellini, allora avrei fatto portami di tortellini, cinque tortellini, mi arriva cinque tortellini, che si muovevano tra di loro perché cinque non c'è spazio, non si intruppavano manco, non si toccavano per chi non è di loro, mi porti, dico guarda, sei rimasto un po', e dico, io lo dico, che fai, io lo dici, io lo dico, hai fatto scusi, quello fa, mi dica, ti sono cascato i lati di tortellini, per te, cinque tortellini, io lo sai che ho fatto, ho preso il parmitico, mi porta la formagiera, sai Romano, siamo paraculi noi, pensa, più la formagiera la butto dentro i tortellini, faccio tipo una stracciatella, una sorta di stracciatella, ha capito, diventa sostanzioso, no? Ma quello non mi sei piazzato dietro così, perché hai capito?